Bentornati anche oggi alla rubrica consigli della bibliotecaria. Oggi parleremo di grandi temi universali che attraversano la letteratura, cioè il rapporto tra malattia e amore e tra il fortissimo impulso alla vita appunto che dà l'essere innamorati e la paura della morte. Sembrano temi pesanti, in realtà non tutti i libri di cui parleremo trattano questi argomenti con Tony Coopi, anzi ho proprio scelto dei libri che parlino di questo argomento in maniera diversificata, sia per il pubblico che si rivolgono, sia per l'età dei loro protagonisti, sia anche per lo stile di scrittura. Questo per mostrare appunto che delle tematiche così profonde possono comunque essere trattate in modo differente. Diciamo che parto con dei libri che si trovano a volte nella nostra sezione ragazzi e in particolar modo nella sezione adolescenti. Questo perché i protagonisti dei primi tre libri di cui vi parlerò sono giovani, in particolar modo perché sono afflitti da fibrosicistica o come dice la protagonista del primo romanzo di cui parleremo, la mucco viscidosi, che è appunto una malattia purtroppo molto seria che colpisce spesso dei ragazzi giovani o giovanissimi. Quindi appunto una malattia che affligge delle persone che hanno in teoria ancora tutta la vita davanti e hanno molti progetti. Questi romanzi, pur essendo in realtà nello scaffale young, sono godibilissimi anche dagli adulti. La letteratura è trasversale, spesse volte i grandi classici per ragazzi sono ottimi da leggere per gli adulti per capire determinate cose e io personalmente trovo che spesse volte la letteratura per adolescenti abbia un approfondimento psicologico di protagonisti proprio perché i protagonisti sono in fase di definizione, stanno cercando chi sono fondamentalmente, la propria identità, a volte più approfondita di quelli degli adulti. Quindi per esempio io non sono più adolescente però ho trovato davvero molto interessanti i titoli di cui vi parlerò. Trovate comunque tutto nel box in descrizione sia i titoli sia gli autori sia dove potete trovare la versione cartacea di questi libri ma anche la versione digitale perché vi ricordo che è sempre possibile prendere in prestito anche la versione ebook dei libri di cui vi parlo tramite la piattaforma Mlol. Vi lascio tutti i riferimenti nel box in descrizione. Anche gli ebook sono sempre un servizio gratuito offerto dalla biblioteca. Partiamo da un libro che si chiama Sul più bello di Eleonora Gaggero. è un romanzo che a me è piaciuto moltissimo perché tratta di una malattia davvero importante che appunto è la moncoviscidosi o fibrosi ecistica però con un tono molto ironico. La protagonista Marta è una ragazza davvero particolare, ha uno sguardo trasversale sul mondo, è molto ironico e quindi in realtà il libro è davvero divertente. È un libro quasi sognante, mi ha ricordato per alcuni versi come sguardo della protagonista il fantastico mondo di Amélie. Cioè una protagonista davvero che ride delle proprie sventure e riesce a portare uno sguardo luminoso anche all'interno di una situazione complessa. Marta Leatutte è malata, è rimasta orfana da bambina e in più è anche un brutto anatroccolo. Eppure davvero in lei c'è una forza vitale grandissima. Questa cosa mi ha colpito molto e davvero voglio fare i complimenti all'autrice Eleonora Gaggero perché pur essendo molto giovane è riuscita proprio, forse proprio perché è molto giovane, è riuscita a offrire un linguaggio immediato, quasi cinematografico, al suo libro. Ve lo consiglio caldamente e vi leggo la trama. Marta ha 19 anni, vive a Torino e si riferisce a un brutto anatroccolo senza possibilità di redenzione. In effetti diciamocelo, non è per niente bella e anche la fortuna non è dalla sua parte. Orfana dall'età di tre anni è affetta da una malattia che ha un nome che è tutto un programma, mucoviscidosi. Le speranze che possa vivere una vita normale sono poche, pochissime. Però Marta ha spirito, ironia, forza di carattere, tutte cose che si è conquistata con i denti e che nessuno le può togliere. Ma soprattutto Marta non ha niente da perdere e ama le sfide. Così decide di lanciarsi in un'impresa impossibile, vivere l'amore sul serio e non con un ragazzo qualsiasi, bensì con quello più bello del pianeta, Arturo, irresistibile, atletico, fidanzato. Una partita persa, una specie di suicidio dell'autostima. Eppure si sa, la vita si mette in moto quando noi decidiamo di fare un primo passo ed è proprio questo miracolo che sfugge ai piani di Marta. Ve lo consiglio, esiste anche il film, però non esiste in DVD, c'è soltanto su Netflix, quindi se avete Netflix dategli un'occhiata perché è carino anche quello. Vi parlo poi di un altro libro che si chiama A un metro da te di Rachel Lippincott che sta appunto nella nostra sezione Young che affronta sempre il tema della fibrosi cistica dove due ragazzi, questa volta i due innamorati, sono entrambi malati di fibrosi cistica. Il tono è più drammatico, il taglio è più drammatico, ma comunque anche qui si affronta la tematica del desiderio di vivere una vita piena e autentica nonostante o forse proprio perché c'è la malattia. Nel senso che questa sensazione che i giorni siano tra virgolette contati spinge a vivere ogni giorno davvero fino in fondo. Come puoi amare qualcuno che non puoi nemmeno sfiorare? A Stella piace avere il controllo su tutto, il che è piuttosto ironico visto che da quando è bambina è costretta a entrare e uscire dall'ospedale per colpa dei suoi polmoni che sono invece totalmente fuori controllo. Lei è determinata a tenere testa alla sua malattia, il che significa stare rigorosamente alla larga da chiunque o qualunque cosa possa passarle un'infezione e vanificare così la possibilità di un trapianto di polmoni. Una sola regola tra lei e il mondo, mantenere la distanza di sicurezza, nessuna eccezione. L'unica cosa che Will vorrebbe poter controllare è la possibilità di uscire una volta per tutte e dalla gabbia in cui è costretto a vivere, praticamente da sempre. Non potrebbe essere meno interessato a curarsi o a provare la più recente e innovativa terapia sperimentale. L'importante per lui è che presto compierà 18 anni e a quel punto nessuno potrà più impedirgli di voltare le spalle a quella vita vuota e non vissuta, un viaggio estenuante da una città all'altra, da un ospedale all'altro e di andare finalmente a conoscerlo, il mondo. Will è esattamente tutto ciò da cui Stella dovrebbe stare alla larga. Se solo lui le si avvicinasse troppo, infatti, lei potrebbe vedere sfumare la possibilità di ricevere dei polmoni nuovi. Anzi, potrebbe rischiare la vita entrambi. L'unica soluzione per non correre rischi sarebbe rispettare la regola e stare lontani, troppo lontani, uno dall'altra. Però più imparano a conoscersi, più quella distanza di sicurezza inizia a somigliare a una punizione che nessuno dei due si è meritato. Dopotutto, cosa mai potrebbe accadere se per una volta fossero loro a rubare qualcosa alla malattia? Anche solo un po' dello spazio che questa ha sottratto alle loro vite? Sarebbe davvero così pericoloso fare un passo l'una verso l'altra se questo significasse impedire ai loro cuori di spezzarsi? Vi parlo adesso del romanzo sulla fibrosi cistica probabilmente più famoso, che probabilmente avete già sentito nominare o avrete addirittura già letto, ma non si può non citarlo, che è colpa delle stelle. Il titolo originale è The Fault in Our Stars, cioè il difetto nella nostra costellazione, nel nostro destino. E la trama è questa, è sempre nella sezione Young. Ezel ha 16 anni, ma ha già alle spalle un vero miracolo, grazie a un farmaco sperimentale e la malattia che anni prima le hanno diagnosticato e ora è in regressione. Ha però anche imparato che i miracoli si pagano. Mentre lei rimbalzava tra corsie in ospedale e lunghe degenze, il mondo correva veloce lasciandola indietro, sola e fuori sincrono, rispetto alle sue coetanei, con una vita in frantumi in cui pezzi non si incastrano più. Un giorno però il destino le fa incontrare Augustus, affascinante compagno di sventure, che la travolge con la sua fame di vita, di passioni, di risate, e le dimostra che il mondo non si è fermato, insieme possono riacciuffarlo. Ma come un peccato originale, come una colpa scritta nelle stelle avverse, sotto cui Esel e Augustus sono nati, il tempo piano a disposizione è un miracolo e in quanto tale andrà pagato. Esiste anche la versione e-book e anche il film, vi metto anche la collocazione, lo trovate nella nostra sezione drammatica in Sala Monaco. Passiamo adesso invece a un altro tipo di malattia. Se ora abbiamo parlato sempre dei ragazzi che lottavano per rubare un giorno in più alla loro esistenza, adesso passiamo invece a un paziente che ha scelto di non voler accettare la sua malattia. Infatti il protagonista di Io prima di te di Jojo Moyes, Will Trainor ha subito un incidente che lo ha reso paralizzato e totalmente dipendente dagli altri. Questa dipendenza dopo la sua vita precedente, che appunto era invece molto movimentata, molto avventurosa, Will non riesce ad accettarlo, non riesce ad accettare la nuova situazione in cui si trova e vorrebbe porre fine a questo tipo di sofferenza. Quindi diciamo c'è proprio un cambiamento nella visione del mondo e della malattia. Il romanzo di Jojo Moyes si trova nella sezione rosa, nella nostra sezione appunto in Sala Monaco al pieno terra e da questo libro è stato tratto anche un bellissimo film con Emilia Clarke e Sam Cleflin che vi consiglio e metto anche appunto il link del film, il link dove potete trovare il film. A 26 anni Louisa Clarke sa tante cose, sa esattamente quanti passi ci sono tra la fermata dell'autobus e casa sua, sa che le piace fare la cameriera in un locale senza troppe pretese nella piccola località turistica dove è nata e da cui non si è mai mossa e probabilmente nel profondo del suo cuore sa anche di non essere davvero innamorata di Patrick, il ragazzo con cui è fidanzata da quasi sette anni. Quello che invece ignora è che sta per perdere il lavoro e che per l'altra volta tutte le sue certezze saranno messe in discussione. A 35 anni Will Traynor sa che il terribile incidente di cui è rimasto vittima e che l'ha infiodato su una sedia a rotelle gli ha tolto la voglia di vivere, sa che niente può più essere come prima e sa esattamente come porre fine a questa sofferenza. Quello che invece ignora è che Lou sta per irrompere prepotentemente nella sua vita portando con sé un'esplosione di giovinezza, stravaganza e abiti variopinti. Nessuno dei due comunque sa che la propria vita sta per cambiare per sempre. Vi parlo adesso dell'ultimo romanzo di oggi che invece parla di una sindrome da immunodeficienza. La protagonista, Madeline, non può uscire di casa per nessun motivo. Ha passato tutta la sua vita in un ambiente asettico perché appunto questa grave immunodeficienza di cui soffre la porterebbe, se venisse a contatto con persone che non fanno parte appunto del suo ambiente sterile, alla morte certa. Il libro si chiama Noi siamo tutto di Nicola Yoon, è sempre nella nostra sezione Young e esiste anche la versione cinematografica, di cui vi metto appunto il DVD anche in questo caso. Voglio finire con questo libro, film, perché è davvero inaspettato. Sinceramente sono rimasta molto perplessa quando ho letto questo romanzo e sinceramente non mi aspettavo assolutamente che andasse a finire in questa maniera. Quindi non vi dico niente di più perché non voglio fare spoiler, però appunto vi leggo la trama e ve lo consiglio perché è ancora diverso da tutti gli altri. Quindi abbiamo visto appunto il tema della fibrosicistica trattato in modo drammatico, trattato in modo ironico, il tema della non accettazione della malattia da parte del protagonista di Io prima di te. Adesso invece parliamo di due protagonisti innamorati, ma qui la malattia avrà un risvolto totalmente inaspettato. Madeline Witter è allergica al mondo. Soffre infatti di una patologia tanto rara quanto nota che non le permette di entrare in contatto con il mondo esterno. Per questo non esce di casa, non l'ha mai fatto in 17 anni. Mai un respiro d'aria fresca né un raggio di sole caldo sul viso. Le uniche persone che può frequentare sono sua madre e la sua infermiera, Carla. finché un giorno un camion della dita di traslochi si ferma nella sua via. Madeline è alla finestra quando vede lui, il nuovo vicino. Alto, magro, vestito di nero dalla testa ai piedi, maglietta nera, jeans neri, scarpe da ginnastica nere e un barretto nero di maglia che gli nasconde completamente i capelli. Il suo nome è Ollie. I loro sguardi si incrociano per un secondo e anche se nella vita è impossibile prevedere sempre tutto, in quel secondo Madeline prevede che si innamorerà di lui. Anzi, ne è sicura, come quasi sicura che sarà un disastro, perché per la prima volta quello che ha non le basta più e per vivere anche solo un giorno perfetto è pronta a rischiare tutto, davvero tutto. Spero di avervi incuriosito con questa carrellata di romanzi e vi saluto, grazie per aver seguito anche oggi i consigli della bibliotecaria.